abbiate week abbiate week buongiorno sabato primo luglio 2017 nuova video intervista del fine settimana volti nuovi volti nuovi dopo l'elezione a sindaco di cesare nai avvenuta ormai sette giorni fa anche meno mauro doddi mauro doddi buongiorno ciao buongiorno allora mauro doddi nuovo assessore nella giunta di cesare nai un nome uscito proprio otto giorni fa in piazza durante l'ultimo dibattito con l'avversario l'avversario domenico finiguerra che diciamo diciamo ha perso il ballottaggio per 120 voti e di conseguenza cesare nai è diventato il nuovo sindaco di abbiate grasso mauro ti hanno praticamente cesare nai ti ha nominato venerdì durante questo questo incontro indetto da un giornale abbiatense proprio in piazza di abbiate grasso a sorpresa sì diciamo che se ne era parlato mi aveva diciamo convinto lui è un amico è una persona che stimo da da una vita siamo cresciuti insieme penso davvero che sia quanto di meglio potessimo aspettarci per per la nostra città per guidare la nostra città me l'ha chiesto ha ritenuto che le esperienze lavorative che ho avuto modo di consolidare nel tempo potessero essere utili e io dopo averci pensato un po accettato e ho accettato molto volentieri diciamo non eri in lista non eri candidato in nessuna delle cinque liste a supporto di cesare nai appena stato cercato magari insomma un po nelle retrovie di 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 aiutarlo per quanto possibile di di fare un po da 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 poltanti diciamo tra tutti da che percce gente dai momento dei momenti di riflessione occasioni di confronto però sinodersi non fin mi sono candidato quindi non mi sono sombarcato le fatiche della campagna elettorale che invece Quindi tra pochi giorni avverrà la nomina ufficiale, si pensa proprio nei primi giorni di luglio, tra neanche una settimana probabilmente ci sarà la nomina ufficiale, assessore alle politiche comunali, diciamo alla riorganizzazione della macchina comunale. Sì, Cesare ha utilizzato una definizione molto semplice, assessore al personale, dopodiché il contenuto vero e proprio, le deleghe associate a questa missione le chiariranno in tempo, però il grosso impegno sarà quello di lavorare con la macchina comunale, con le risorse, con gli uffici, dipendenti degli uffici comunali, dell'organizzazione del suo complesso e quindi contribuendo, cercando di contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza con cui serviamo i nostri... Va bene, sono moltissimi i dipendenti comunali nelle varie funzioni, anche nei vari uffici e soprattutto edifici che abbiamo alla Betegrasso, abbiamo, pensiamo a Piazza Marconi, abbiamo un comune, abbiamo in Piazza Vittorio Veneto, Villa Sanchioli, ce ne sono, e chi più ne ha più ne metta. Se ne è parlato anche negli ultimi cinque anni con l'amministrazione Arrara di un eventuale raggruppamento in un unico edificio, si parlava dell'edificio dell'ex Pretura in Piazza Aziani, questo non è successo, tu come la vedi dal punto di vista dell'organizzazione anche degli uffici e soprattutto degli edifici? Allora, lasciami dire che sulla quantità, diciamo, di risorse all'interno della macchina comunale, se effettivamente il numero è un numero significativo, parliamo di più di 200 persone, teniamo presente comunque anche, parliamo di una città di 32 mila abitanti, che ha una sua complessità e una sua criticità per diversi aspetti, quindi, adesso sulla quantità delle risorse andrà fatta una riflessione, ma credo che non sia da sottovalutare l'impegno che ha la macchina comunale nel cercare di servire in modo adeguato i nostri concittadini. Dal punto di vista della distribuzione dell'organizzazione su siti diversi, naturalmente è prematuro che io esprima un'opinione, devo dire che in occasione di un giro introduttivo, in cui con il sindaco abbiamo avuto modo di andare a darsi una stretta di mano con le nostre risorse, all'interno della macchina comunale, effettivamente ha un impatto questa cosa, cioè si vede e fa impressione, questa dislocazione, questa distribuzione sul territorio, che così a prima vista non sembra essere ideale, a prima vista per quanto mi riguarda e anche per avere in qualche modo così sentito qualche dipendente in occasione di questo futuro. Poi mi rendo conto che è facile darsi l'obiettivo di consolidare tutto all'interno di un'unica struttura, i vantaggi mi sembrerebbero abbastanza evidenti ed immediati, immagino che ci siano tutta una serie di complessità, di costi, che però magari andrebbero anche ridotti con la funzione di un'unica sede. Certo, assolutamente, ci sono dei benefici che sono benefici sia di carattere economico, sia sicuramente di poi facilità e agilità nello svolgimento del proprio ruolo e quindi poi di qualità del servizio. Va bene, va bene, va bene. Senti, con Cesare Nai quindi si riparte per questi cinque anni al governo della città, è una cosa, diciamo, possiamo dire positiva degli ultimi cinque anni, una cosa che proprio l'amministrazione rara ti ha magari deluso o non ha portato a termine. Ma io, guarda, da cittadino e da imprenditori, ricordiamo che tu hai un'attività proprio qui nel centro di Betegrasso. Lo dico con la convinzione massima. Io ho un po' girato, ho girato l'Italia, ho girato il mondo, ho anche visto altre città nell'interland milanese. Devo dire che io considero Betegrasso la più bella città in provincia di Milano, sia da un punto di vista architettonico che da un punto di vista così naturalistico e delle opportunità della cultura, dell'aria che si respira vivendoci tutti i giorni. Quindi per me Betegrasso è una città bellissima e vorrei quasi dire a prescindere dalle amministrazioni che si sono avvicendate e che sicuramente hanno contribuito nel tempo a renderla così bella. Qui io sono cresciuto, ho studiato, qui hanno lavorato i miei genitori come insegnanti per tanto tempo. I miei figli studiano, vanno all'oratorio, crescono e crescono bene in un ambiente molto sano. Quindi io di questo... I tuoi figli che sono molto giovani, sono dei... Copro tre generazioni. Anche loro amano la città. Sì, tantissimo, tantissimo e non ho mai avuto nessun tipo di problema nel dare così per scontato che la nostra base fosse a Betegrasso. Ci ho detto, immagino che le cose siano sempre comunque migliorabili. Credo che la giunta rara, mi hai fatto l'esempio, sia stata anche un po' così sfortunata perché ci sono state almeno un paio di situazioni probabilmente impreviste che hanno evidentemente creato problemi. Penso alla piscina perché è una cosa che in qualche modo ha avuto un impatto anche su di noi, ha avuto un impatto su tanti amici, tanti ragazzi che conosco e penso per esempio che quella sia stata davvero una situazione sfortunata e che andrebbe rimessa velocemente in carregiata. La squadra al Consiglio è ormai completa, è definita, si devono comunque valutare, Cesare Nai sta facendo i lavori per valutare la squadra degli assessori vari, comunque vedo che ci sono tante persone anche nuove, sia come consiglieri, nuovi eletti, gente giovane, gente un po' proveniente da diversi, diverso tessuto sociale, bene? Sì, questo credo che riguarda il Consiglio nella sua interenza e in particolare per quanto riguarda poi la coalizione che ha sostituito, che ha sostenuto Cesare. Io sono rimasto impressionato dall'entusiasmo e dalla qualità del contributo che hanno dato queste persone. Devo dire, gli anziani e i nuovi, a me riesce un po' difficile fare una grossa distinzione. Dal punto di vista della motivazione, dello spirito e della dedizione con cui queste persone si sono imbarcate nella campagna, sono rimasto veramente impressionato. Sono anche convinto, sicuramente sarebbe il principio che adotterei nella gestione di un'azienda, sono convinto che combinare l'esperienza con l'entusiasmo, la freschezza di persone nuove che si affacciano a una professione piuttosto che a una missione come quella appunto dell'amministrazione di una città sia la condizione ideale. Questa volta sembra esserci il giusto mix. Per me il mix c'è, è un mix sia generazionale ma anche direi proprio... Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Buon lavoro a Mauro Dodi per questa nuova carriera da assessore della città di Vieta e Grasso e per questi cinque anni una buona giornata e magari ci vediamo tra qualche mese, con qualche aggiornamento, ci direi qualcosa di nuovo anche sulla macchina comunale, sugli uffici e chissà magari avrai altre deleghe, ci saranno magari altre novità. Grazie e buona giornata. Grazie.